Dal puro divertimento all'esplorazione estrema, il tuo riferimento è Eligio Romano Ferrino Store, via Piano Dardine 15 a Tripanda. Non si placa l'ondata di furti nel mirino come sempre e soprattutto, case isolate e non c'è zona franca, comune che tenga. Svaliggiata all'alba di domenica, un'abitazione di starse di su un monte dormivano e non si sono accorti di nulla. I proprietari pare che i malfattori abbiano addirittura utilizzato un diversivo per eludere controlli in corso da parte delle forze dell'ordine. Un'eterna lotta tra guardie e ladri che stavolta rischia di provocare morti o feriti sul campo. A Contrada Bagnoli ad Avellino imbracciano i fucili, qualcuno di notte ha sentito esplodere dei colpi, stremati i residenti si arrangiano come possono. E da Contrada Bagnoli domani sera i riflettori di Raid torneranno ad accendersi in diretta per affrontare il fenomeno con la collaborazione in studio di esperti e di sindaci. A Cervinara intanto altri colpi. Domenica nel tardo pomeriggio hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per agire fatale stata la messa alla quale marito e moglie hanno partecipato. Mentre si trovavano nella chiesa di Sant'Adiutore Vescovo i ladri gli hanno messo a suo quadro casa per portare via valori affettivi più che materiali. Nella lotta tra criminali e forze dell'ordine da registrare anche l'arresto di tre persone operato dai carabinieri ad Aiello. Nel Mirino era finita una base scout situata tra i boschi. Qualcuno ha notato strani movimenti in pieno giorno ed ha allertato il 112. Tre persone di Serino con età compresa tra i 19 e i 55 anni sono stati arrestati in flagranza. Avevano trafugato delle stufe ambientali della struttura con l'ausilio di una gazzella della sezione radiomobile e tre sono stati colti con le mani nel sacco.